Il saluto dal Tg della mobilità per interventi di potatura in via Nomentana a partire dal 9 gennaio sarà istituito il divieto di sosta H24 con zona rimozione sul lato destro di Corsi Italia in direzione verso da via Augusto Valenziani a piazzale di Portapia, tra il civico 107C e il civico 119 su tutto il piazzale di Portapia. In via Cagliari i divieti di sosta e la zona rimozione riguarderanno il lato dei numeri civici pari, mentre in via Reggio Emilia verrà istituito l'obbligo di svolta a destra all'incrocio con via Alessandria. La strada sarà senza uscita per i veicoli provenienti da via Alessandria con chiusura in corrispondenza con via Nomentana. Stessa chiusura anche in via Messina e il divieto di sosta con zona rimozione sul lato dei numeri civici pari. Nel sottovia Ignazio Guidi, infine, sarà istituito il divieto di transito per chi si immette da via Nomentana. È tutto. Appuntamento alla prossima edizione.